programma elezioni amministrative 2014 opere pubbliche esaminando gli ultimi tre anni dell'uscente amministrazione in relazione ai capitoli di spesa riguardanti i lavori pubblici sia spesa corrente che in conto capitale emerge un oggettivo abuso dell'utilizzo della procedura del cottimo fiduciario a cui si è ricorso in più di 70 casi questa importante fetta della spesa comunale risulta gestita direttamente dalla responsabile dell'area tecnica in base alle norme del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia analizzando ogni singola determina di incarico ed impegno di spesa emerge che nel triennio in questione sono stati affidati con la procedura del cottimo fiduciario lavori per un importo totale che supera i 900.000 euro e che il 70% di tali opere sono state assegnate a due ditte i cui nominativi ricorrono in maniera sistematica oltre ai lavori aggiudicati con tale prassi anche esaminando le procedure di aggiudicazione delle più importanti opere pubbliche realizzate considerate rilevanti in rapporto al bilancio comunale ovvero i lavori di realizzazione del museo delle campane 295.000 euro e i lavori di costruzione del campo sportivo di testana 325.000 euro i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico 997.000 euro e le opere di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile in località molino nuovo 185.000 euro l'amministrazione non ha mai ritenuto di attuare una procedura di gara aperta prevedendo la possibilità di ampliare la rosa dei partecipanti a tutte le imprese in possesso dei requisiti tecnico-economici ma si è sempre scelta la procedura ristretta o negoziata cioè la stazione appaltante si è riservata la facoltà di invitare alla gara d'appalto le imprese che in base ad un principio di conoscenza sono state considerate affidabili alla luce di questa gestione delle opere pubbliche oggettivamente operata a discapito del principio di economicità il nostro progetto di gestione dei lavori pubblici deve per forza di cose passare attraverso la revisione del regolamento comunale per la gestione degli appalti introducendo nuovi criteri per l'affidamento diretto dando priorità al principio della rotazione aperto ad un maggior numero di imprese che eviti la formazione di un cartello di operatori economici privilegiati sarà inoltre prioritario il rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi e la conseguente pubblicazione online dell'albo dei fornitori con l'indicazione quantitativa dei lavori eseguiti suddivisi per tipologia e procedura di aggiudicazione le opere pubbliche che riteniamo più urgenti riguardano il completamento di quelle già avviate dalla precedente amministrazione e che a tutt'oggi non sono stati ultimati a causa della mancata copertura economica per importo lavori sottostimato nuovo plesso scolastico o a causa di una carente vigilanza sulla realizzazione dei lavori da parte dei funzionari preposti emblematico il caso del tramite carrabile di via mortù che doveva essere realizzato a seguito di convenzione sottoscritta tra comune e soggetto privato ci impegneremo inoltre a verificare il rispetto di tutte le altre convenzioni in essere tra l'amministrazione e i privati a scomputo del pagamento degli oneri concessori obiettivo che riteniamo altrettanto prioritario sarà la realizzazione di una rete pedonale e ciclabile capace di collegare fisicamente la riviera di recco con il nostro entroterra riqualificando i sentieri esistenti e dando finalmente attuazione al percorso ciclopedonale dei ponti romani turismo e commercio il comune di avegno è ricompreso a pieno titolo nel comprensorio del golfo paradiso come ribadito nel recento protocollo di intesa fermato tra i comuni del comprensorio per la produzione del brand golfo paradiso portofino vetta che negli ultimi anni ha vissuto un notevole calo delle presenze turistiche ed è chiaro che per rilanciare il turismo che nonostante tutto per il nostro territorio rimane una delle principali fonti di reddito specie nei mesi estivi deve essere approntato un piano comune che partendo dalle problematiche che limitano la fruizione della nostra porzione di riviera carenza di infrastrutture di accesso mediocre livello delle aree balneari mancato coordinamento tra i vari enti che gestiscono la promozione turistica e gli eventi possa dare soluzioni credibili alcune immediate ed altre che debbano passare da una programmazione di interventi strutturali a vegno con i suoi innumerevoli bed and breakfast agriturismo ed un'unica vera struttura ricettiva rappresentata dall'albergo lago scuro non può ovviamente prescindere dai turisti estivi della riviera ma è altrettanto vero che le peculiarità del proprio territorio possono essere sfruttate sia nei mesi caldi come valida alternativa ai bagni di sole sia nel resto dell'anno tutto questo programmando interventi di valorizzazione e promozione delle risorse paesaggistiche e naturali il territorio di avegno si sviluppa su circa 11 chilometri quadrati e fortunatamente all'interno di tale area possiamo trovare diversi ecosistemi e microclimi da quello lacustre in corrispondenza dei corsi d'acqua di fondo valle torrente recco ed arbora a quello tipicamente montano crinale passo spinarola piane di caravaggio ed alture di testana questa moltiplicità di paesaggi ed ambienti risulta collegata da una fitta rete di sentieri e crose di antichissima costruzione come testimonia la presenza di ponti la cui edificazione risale all'epoca romana il nostro programma punta alla valorizzazione e promozione di queste risorse in primo luogo rendendo fruibili i percorsi esistenti anche attraverso piccoli interventi di risistemazione ed in secondo luogo realizzando tutta una serie di piccole infrastrutture collegate alla rete escursionistica questo ambizioso programma deve purtroppo essere preceduto dalla soluzione di un problema centrale per il nostro territorio ovvero la riqualificazione dell'area ex oleificio capurro non è credibile promuovere un territorio la cui porta d'ingresso è rappresentata da un'area industriale dismessa di conseguenza la presenza di quelle macerie rappresenta oggi per avegno un ostacolo alla crescita turistica e quindi anche economica recupero tributi non riscossi l'attuale amministrazione non ha ritenuto di assoggettare all'imu le principali aree edificabili presenti all'interno del nostro territorio comunale in primis il distretto di trasformazione dell'ex oleificio capurro e contestualmente non eseguire i necessari controlli dell'attività edilizia ultimo comune ligure nella classifica delle rilevazioni nostra priorità sarà promuovere tutte le necessarie azioni di controllo e recupero dei tributi locali dovuti attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle leggi le somme così recuperate saranno utilizzate per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini virtuosi e per migliorare i servizi impegno sociale e partecipazione attiva dei cittadini impegno prioritario sarà il completo recepimento delle direttive introdotte dal disegno di legge 33 barra 2013 con particolare riferimento alla trasparenza dei contratti e dei pagamenti stipulati dalla pubblica amministrazione giudichiamo altrettanto prioritario implementare tutti i servizi online attualmente inesistenti nel portale istituzionale del comune che consentono ai cittadini di accedere agli atti amministrativi richiedere per via telematica certificazioni e documenti promuoveremo l'apertura di uno sportello virtuale sit che dia la possibilità di accedere alle informazioni di natura tecnico urbanistica sulla base di un'interfaccia cartografica e la possibilità dell'immediata produzione di un certificato di destinazione urbanistica per aiutare a risolvere i grovigli burocratici pensiamo all'apertura di uno sportello unico per il cittadino dove l'utente può trovare informazioni avere un supporto alla compilazione delle varie richieste lasciando allo stesso servizio l'onere di inoltrare agli uffici competenti ed informare progressivamente il cittadino circa l'iter della pratica crediamo che sia indispensabile una rinegoziazione dei requisiti minimi che consentano di beneficiare dei bonus sociali per garantire alle famiglie numerose o in difficoltà sgravi sulle voci di spesa che interessano la parte comunale tares imu mense scolastiche eccetera la partecipazione diretta del cittadino alla vita politico amministrativa sarà garantita anche attraverso la possibilità di intervento al dibattito dei consigli comunali all'interno di spazi autogestiti a cui ci si potrà prenotare anche online sarà pubblicato sul sito istituzionale in forma semplificata e con modalità di accesso immediata e il bilancio comunale sarà incentivato lo sviluppo dell'attività sportiva ed il sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare e soprattutto lo sviluppo di iniziative ed eventi che coinvolgano gli alunni delle scuole primarie il nostro obiettivo sarà introdurre lo svolgimento di 4 ore settimanali di attività motoria gestita da personale accreditato il 25 maggio per cambiare l'italia iniziamo riprendendoci il nostro comune Avigno, lista civica Movimento 5 Stelle